Il Medioevo è qui, non c'è bisogno di aspettare il festival. È uno dei commenti che spuntano sul social a corredo di fotografie che da settimane testimoniano lo stato in cui vertono i vicoli del centro storico Eguvino e l'esasperazione dei residenti che lo vivono alle prese con situazioni ormai definite insostenibili, che continuano a verificarsi dopo weekend ed incontrollata movida. Non è la prima volta che su web vengono raccolte le segnalazioni dei residenti. Nel corso del tempo sono nate anche pagine di comitati spontanei come Vivere nel centro storico di Gubbio, che attraverso foto, video e post cercano di far fronte comune contro la maleducazione di quanti deturpano il decoro urbano e generano disagi a chi nel centro vive. L'ultimo weekend è di nuovo lasciato sconforto. Escrementi umani, vicoli ridotti a latrine, fioriere e divelte. In moltissimi ci avete risposto che non era vero niente, che eravamo vecchi dentro, che volevamo una città morta, si legge nei commenti a margine delle foto postate. Infinita tristezza e tanta rabbia perché siamo costretti ad andarcene da casa nostra per poter avere una vita decorosa nei lunghissimi mesi estivi. Degrado, notti in sogno, offese, divieti di sosta, parcheggi non garantiti, tavoli dentro casa e dentro le attività commerciali, spaccio antivandalici. Ma la domanda è una, continuano i residenti, quando ci avrete mandati via tutti, chi resterà a pulire, curare, amare questa città senza guadagnarci un euro? Domande il cui eco è sempre più forte e che l'anno scorso avevano trovato risposta nell'ordinanza emessa dal sindaco della città, Filippo Stirati, di chiusura anticipata per i locali alle ore 1 per 4 fine settimana. Ne era nato un dibattito acceso, di certo non isolato, bensì comune a numerosi centri della penisola, da nord a sud. C'è un problema sociale, di sicurezza, di sanità per i residenti e c'è la speranza da parte del Comitato Eugubino che da sindaco e prefetto arrivino delle linee guida che facciano capire che è necessario il cambiamento per poter vivere la città, per poter vivere il centro storico che è un patrimonio ma anche una responsabilità.